Ma noi che siamo del Tore non siamo dei pusillanimi, diamo un risultato secco sul derby, qua c'è la scaramazia, è durissima, però non diamo soddisfazione a questa gente qua? Io direi un 1-0, 1-0 proprio questi derby molto combattuti, di grandi sofferenze dove poi c'è un gol. Alla tre seghe? Non me non ricordo. Fai schifo, fai schifo. Diciamo un 1-0 con gol di Glick.